I carabinieri della stazione di Gioiosa Ionica sotto la guida del comandante, il maresciallo capo Francesco Albanesi, unitamente ai militari dello squadrone riportato cacciatori Calabria, al culmine di un'attività d'indagine coordinata alla procura della Repubblica presso il Tribunale dei Locri, hanno arrestato due persone intente a coltivare una piantagione di canapa indiana in un terreno demaniale sito nell'impervia contrada a piombo nel comune di Gioiosa Ionica. L'operazione che si inserisce nell'ambito dei servizi finalizzati alla repressione della coltivazione della canapa indiana ha consentito di riscontrare la presenza di 211 piante di marijuana di altezza compresa tra 80 e 130 centimetri, tutte in pieno stato vegetativo. Lorenzo Roccursini, 42enne pastore e Salvatore Jacopetta, 62enne commerciante, entrambi note alle forze dell'ordine, si prendevano cura delle loro piante provvedendo ad annaffiare a giorni alterni fino all'odierno arresto. Nel corso dell'operazione sono stati rinvenuti e occultati tra la fitta vegetazione anche due sacchi di plastica contenenti complessivamente 4 kg di marijuana. Gli arrestati sono stati condotti presso i rispettivi domicili in attesa dell'udienza di convalida, dovranno rispondere di produzione di sostanza stupefacente in concorso. Nel corso della stagione estiva i servizi condotti dalla compagnia di Roccella Ionica assieme ai cacciatori Calabria hanno consentito di rinvenire nella valata del Torbido ben 8 piantagioni per un ammontare di 3427 piante.